Luca Onestini e Raffaello Tonon verso l'Isola dei Famosi Gli Oneston all'Isola dei Famosi, Luca Onestini e Raffaello Tonon colpiscono ancora. Gli Oneston, la coppia formata dagli amici Luca Onestini e Raffaello Tonon, ha fatto breccia nel cuore del pubblico al grande fratello Vip. Mediaset lo ha capito bene e, secondo quanto fa sapere Novella 2000, è pronta a sfruttare appieno questo legame. In che modo? Mandando l'extronista di Uomini e Donne e l'opinionista di Barbara D'Urso all'Isola dei Famosi in partenza a gennaio. . Secondo quanto fa sapere il sito web diretto da Roberto Alessi, Tonon non sarebbe entusiasta di questa nuova offerta lavorativa che rappresenterebbe il suo terzo reality show dopo La Fattoria e il GF. . Luca, invece, avrebbe più di qualche riserva per via del rapporto che si è instaurato con Ivana Mrazova, fuori dalla casa di Cinecittà. I due si sono avvicinati molto e avrebbero addirittura passato una notte di passione insieme. . . Isola dei famosi 2018, tutti i nomi dei concorrenti in gara. . In attesa di scoprire se gli oneston andranno davvero in Honduras, sono già stati confermati alcuni nomi del cast dell'Isola 2018. . . Chi sono? L'attrice Brigitte Nielsen, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez Francesco Monte, la cantante Bianca Azzei, la fashion blogger Chiara Nasti, la showgirl Alessia Mancini, l'ereditiera Elettra Lamborghini, il conduttore Corrado Tedeschi. . . Pare siano state escluse all'ultimo lettroniste di Uomini e Donne Rosa Perrotta e Sabrina Ghiò. . . Il reality show partirà lunedì 22 gennaio e sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. . . Il nuovo inviato è Stefano De Martino che, per il programma, ha lasciato amici di Maria De Filippi. . . . . .